Sei imperdibili appuntamenti per la stagione dei concerti al teatro comunale, insomma cena per tutti i gusti e soprattutto c'è davvero una bassa scelta di nomi prestigiosi. Sì, io tra l'altro ho il piacere e l'onore di essere presente tra gli artisti che saranno protagonisti di questa stagione, che tra l'altro offre, nonostante siano quattro concerti jazz e due classici, offre linguaggi molto differenti tra di loro, perché sono artisti talmente importanti che si identificano in un proprio carattere musicale che sicuramente coinvolgerà il pubblico. Il primo concerto, quello inaugurale del 19 novembre, vedrà qui Steve Coleman che è uno dei più grandi musicisti al mondo, verrà da Chicago, ma non solo, questa è musica di ricerca, quindi anche novità che viene proposta per attirare non solo il pubblico che normalmente frequenta le sale da concerto, ma anche molti giovani. Dicevo, quattro appuntamenti di jazz che scorrendo il cartellone si potrà notare danno certo attenzione alla ricerca, ma anche attenzione ai giovani, perché ci sono dei giovani col progetto Pescara Jazz Messenger, che sono i giovani premiati durante il Pescara Jazz, che sorprenderanno il pubblico con la loro bravura e la loro musicalità. E naturalmente poi l'appuntamento con Javier Girotto, quindi con il nuovo tango, un appuntamento che sicuramente coinvolgerà tutti, e in questo cartellone si intersegano due concerti di musica classica, e appunto uno dei due sarò protagonisti insieme a uno dei più grandi violinisti, il maestro Pavel Berman, che suona il violino Stradivari, che pensate era nelle mani del grande David Oystra, che oggi è affidato a lui, e poi il trio Aram Kaciaturian, che verrà direttamente dall'Armenia a portare la propria cultura, la propria musica qui a Teramo per la prima volta.